ci abbiamo sperato fino all'ultimo finisce 0-0 e un po' di Roma secondo me è stata una grande partita nel senso che comunque se vogliamo muovere qualche critica sì ok la Roma è partita alla grande i primi 20 minuti proprio è stata un'assadio a Fortapache occasionissima per Dzeko occasionissima per Salah è stato un fenomeno Skorupski e poi ha fatto un assadio nell'ultimo quarto d'ora finale e anche lì è stato Skorupski un fenomeno di mortacci sua e Pasquale due volte ha salvato sulla linea nel mezzo forse l'Empoli un po' più in palla fisicamente ha tenuto bene botta però in realtà ha tirato forse mezza volta in porta il nostro portiere non ha dovuto fare nessun tipo di parata particolare per cui niente secondo me la Roma è stata soltanto sfortunata oggi meritava assolutamente la vittoria gli abbiamo fatto voglio dire almeno sei palle limpide da parte nostra sei occasioni importantissime Skorupski probabilmente sarà il portiere del futuro della Roma se mantiene questo standard ma l'immortacci sua un'altra volta voglio dire ma quando hai giocato contro altre squadre però non ti sei ricordato forse di fare il fenomeno così sempre rompe il cazzo a noi sempre quando giocano contro noi e va bene ottima la gara di Emerson Palmieri secondo me il migliore in campo quando è stato sostituito da Bruno Perez Bruno ha provato a fare qualcosa però in maniera un po' forse confusionaria buonissima la prova di Paredes tant'è vero che poi quando si è trattato di scegliere un sostituto è uscito De Rossi forse un po' troppo lento e scolastico nella fase di impostazione mentre Paredes è stato ottimo sia in fase di impostazione sia a contrasto e dall'altra parte Rudiger che piano piano mette minutaggio sulle gambe qualche sbavatura però nulla di particolare forse un po' tardiva la sostituzione perché perotti comunque l'avrei fatta entrare almeno dieci minuti prima sempre con quella formula cioè di lasciare i due attaccanti esterni Salah non mi è piaciuto per niente troppo confusionario ma incisivo e il Sharawi forse a Bullico nel primo tempo sicuramente non pervenuto nel secondo tempo nel finale si è risvegliato ha avuto delle occasioni importanti è stato veramente sfortunato e niente che dire era una partita da vince non l'ha vinta non ho nulla da improverare alla squadra però questi sono punti pesanti e niente per il resto forza Roma adesso ci aspetta l'impegno dell'Europa League giovedì ogni partita abbiamo qualche infortunato Emerson è uscito toccando vediamo un attimino se riusciamo a recuperare qualche cacciatore un saluto e forza Roma e vaffanculo